Era semplicemente un auspicio suggestivo, ma nient'altro. L'estra è la linea del Senato, che è quella principalmente di cambiare il regolamento. I senatori hanno la loro linea ed è quella maestra in questo momento. Ecco, c'è un clima comunque di sospetto, di reciproco sospetto. Voi sul PD e il PD su di voi? Ma su di noi, se il PD vuole nutrire qualche sospetto, è semplicemente per cercare di scaricare qualche sua responsabilità. Io credo che i nostri avranno modo, se vorranno, anche di dimostrare che cosa stanno votando. Secondo lei è davvero possibile a questo punto cambiare questo regolamento e abolire il voto segreto? Se il PD non ha niente da nascondere, non vedo perché non dovrebbe votare per il cambiamento del regolamento. Il PD e tutte le forze che dicono di voler far decadere Berlusconi stanno dicendo che voteranno per la decadenza, non vedo perché non dovrebbero votare per l'istituzione del voto palese in questa situazione, in modo tale da dimostrare ulteriormente che hanno questa volontà politica.